Ciao a tutti, questa volta è il turno di un libro di argomentazioni appunto non musicale, mettiamola così. Vi presento un libro che ho acquistato pochi giorni fa, perché è un libro del 2023, quindi è un libro uscito qualche mese fa, su un tema assolutamente scottante, si intitola Micramorfosi ed è un neologismo inventato dallo stesso autore che è Ferruccio Pastore che poi motivierà. Vi leggo qualche rigo. Immigrazione continua a essere sinonimo di svantaggio e marginalità. Le crisi dell'ultimo decennio hanno aggravato la situazione, colpendo gli stranieri in maniera più pesante dei cittadini. Inseriti nei settori più esposti, generalmente meno garantiti, i primi hanno perso il lavoro o subito riduzioni di orario e salario, assai più spesso dei secondi. Così il divario aumenta. Siamo una società sempre più stratificata in base all'origine e al colore della pelle. Alla radice vi è un drammatico ritardo culturale e politico. I media continuano a ricondurre ossessivamente gli immigrati a due stereotopi contrapposti, intruso, minaccioso o povera vittima. La politica è impantanata da anni in uno sterile gioco delle parti, ogni serio progetto di riforma è stato abbandonato. Emergenzialismo e improvvisazione dominano. Questa è appunto la quarta ricopertina. Il tema è indubbiamente molto importante. Sappiamo che la problematica degli immigrati andrebbe, e dico andrebbe perché la politica è impantanata, ma non solo la nostra in generale, andrebbe affrontato in istanze sovranazionali, per cercare di, in qualche modo, aggredire questo problema. Non dimenticando mai, perché io penso che se vogliamo capire una cosa, e i fatti drammatici di questi giorni tra Israele e Gaza lo testimoniano, devi andare all'origine, devi cercare di capire come si è arrivati a questa situazione. E alle spalle c'è il colonialismo, alle spalle ci sono le politiche aggressive, direi criminali, di tutti i paesi europei che hanno usato il terzo mondo come bacino per le materie prime, come bacino per tante altre cose, con scorribande e nefandezze che non potranno mai essere perdonate. Stati Uniti in testa. Allora il problema è questo, alle spalle c'è questo dato di fatto. Oggi abbiamo il grave problema dell'immigrazione, però Ferruccio Pastore appunto ci riporta il fatto che un paese come l'Italia, con una crisi diciamo demografica e di natalità, ha in qualche modo riuscito ad andare avanti come sistema produttivo, proprio perché ci sono stati gli immigrati. molto spesso lavorano sotto il sole a tre euro e mezzo, quindi non è tanto il fatto che ci portano via il lavoro, fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Vorrei vedere un italiano andare sotto il sole, lavorare dodici ore per tre euro e mezzo all'ora, perché questa è la realtà. Quindi uno non ci va perché è nella condizione ancora di non poterci andare. Ok, quindi questo tema insomma che ridurlo così sinteticamente è molto complesso, ma comunque viene affrontato in maniera esemplare con dati, statistiche in questo libro, che vi faccio vedere, Micramorfosi della Inaudi. Ciao a tutti.